Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video Come potete sentire dalla mia voce, capire dalla mia espressione in questo momento Sono al settimo cielo, perché? Perché lo sapete tutti voi Quest'oggi, dato che l'avete letto nel titolo, andrò a ritirare la mia nuova moto Prima di cominciare però ragazzi vi voglio dire una cosa importantissima, di vitale importanza Se ancora non lo fate seguitemi su Instagram, il mio nome è Eddie Yanno come al solito Siamo quasi a 100.000 seguaci Vi dico di seguirmi su Instagram perché lì vi aggiornerò su che cosa farò alla moto Se sto facendo le modifiche, quando usciranno nuovi video, molto importante Avrete la possibilità di partecipare a sondaggi esclusivi Quindi che compariranno nei miei video, come ad esempio nel test del KTM Avevo messo un sondaggio che ho fatto su Instagram Insomma potete fare un sacco di cose che non potete fare seguendomi solo ed esclusivamente su YouTube Di conseguenza vi ripeto, il mio nome è Eddie Yanno, seguitemi in tanti Bene ragazzi non vi prendo tanto tempo Vi dico semplicemente che cosa faremo oggi per andare a ritirare la moto Come sapete, se avete visto i miei ultimi video La mia moto era già arrivata da un po' di tempo Ma non la possedevo io Perché è stata mandata da una persona La quale si è occupata di cambiarmi lo scarico Mettendo quindi quello senza strozzi, senza blocchi Se così li vogliamo chiamare Si è occupata anche di rimuovere il blocco della corsa del gas E finalmente ha terminato di fare tutte queste cose Ed ha detto che adesso posso andare a ritirare la moto Quindi dato che io quest'oggi devo andare nell'azienda Airo Helmet La famosissima azienda di caschi Questa persona ha portato appunto la moto dalla Airo In modo tale che io possa andare lì Parlare delle cose di cui devo parlare E soprattutto vedere ed utilizzare per la prima volta Il mio nuovo TMS MR 125 Quindi ragazzi vi ripeto che io sono il settimo cielo Ho detto 50 volte le frasi che avete sentito nell'arco di 5 secondi Perché continuavo a sbagliare Perché sono appunto preso benissimo dal fatto che Tra poco guiderò la mia futura moto Quindi senza perdere altro tempo noi ci rivediamo nel viaggio E poi vediamo la mia reaction e il primo motovlog sul TM E poi vediamo la mia reaction e il primo motovlog sul E poi vediamo la mia Mi sa che non ci sta eh No dovrebbe stare ci sta No ci sta Buon ragazzi siamo in sella finalmente Non mi sembra vero Allora calcolate che questo sarà un video molto parlato Andrò bello tranquillo Sia perché la moto in questo momento è fredda Che perché sono in rodaggio Allora ragazzi suoli Fondamentalmente come ci organizzeremo adesso che finalmente ho la foto Che cosa farò che cosa non ci farò Cominciamo nel dire che di rodaggio non ci voglio fare poco Perché ci tengo non voglio utilizzarla male come magari ho iniziato a fare con l'HM Voglio proprio tenerla perfettamente questa moto senza nessun tipo di problema Quindi come rodaggio non ci farò troppo come alcuni consigliano Né cominciare a tirarla subito Ho intenzione di farci circa 300 km 500 km una cosa così no Tra l'altro ragazzi devo stare attento perché come vedete la strada è bella che bagnata Perché ha piovuto fino a 20 minuti fa E strada bagnata più gomme nuove È uguale a stare molto attenti Adesso non ho nemmeno la scusa da dirvi Sono con le ruote tassellate Però posso dirvi che sono con le ruote nuove Quindi è una scusa valida per questa circostanza Allora come avete visto dalle riprese che vi ho fatto vedere dall'esterno Questa moto che è il TMSMR 125 modello 2018 Se avete visto ha delle differenze dal modello 2017 e gli inferiori In primis che si può notare bene da qui Tra l'altro devo toglierci la pellicolina Come potete vedere c'è il contachilometri Che non è quello del TM ma bensì è quello dell'HM Ed una differenza che avranno notato magari quelli che hanno visto spesso dai TM È che questa bestiolina non ha la mascherina V-Face Ma quella che monta il TM da Enduro In realtà il motivo di questa cosa non lo so C'è gente che dice che TM aveva finito le V-Face a disposizione Ma mi sembra strano perché io ne ho comprata una E c'è chi dice invece che il modello 2018 esce proprio con la mascherina da Enduro Come avete capito comunque io ho già comprato la V-Face Non tanto per una questione estetica perché anche questa qua è molto bella Quanto perché in futuro oltre a farci delle piccole modifiche che vedrete nei prossimi video Ci applicherò delle grafiche che mi sono fatto fare da Next Graphics Design Che si adatteranno alla V-Face appunto Quindi per forza di cosa ho dovuto acquistarla Raga io in questo momento sono veramente al settimo cielo Sono anche un po' agitato eh Perché comunque primo giorno sulla moto Devo capire un po' come farla girare Soprattutto adesso che sono in rodaggio Che è il momento più importante Non avete idea di quanta voglia io abbia in questo momento Di aprire il gas a manetta E sturarla immediatamente Ma così facendo probabilmente farei una grande stronzata Tra l'altro come avete visto Guantini perfetti per la moto Avete visto dalle riprese precedenti Casco fatto apposta Che cosa sta facendo Quello davanti è mio padre raga Non riesco a capire per quale motivo Mi stia facendo andare lungo questa strada Poi inoltre raga Questo qua che è il modello 2018 Ha il pacco lamellare V-Force 3 Che fondamentalmente è quello dell'enduro Cioè è quello del TM da enduro Raga veramente è una belva assurda sta moto Sono troppo felice di averla Ed una volta raga che sarà finito il rodaggio Ne vedrete di belle veramente Ho in mente tanti di quei video che raga Tra l'altro raga la cosa bella È che nessun mio amico Sa che io in questo momento sto guidando la moto Sa che io oggi sono andato a ritirare la moto Proprio non lo sa nessuno Io questo video lo sto registrando venerdì 2 febbraio Quindi due giorni fa per voi E la cosa bella è che nessuno anche su Instagram Sapeva che io già di venerdì appunto avessi la moto E questo perché vorrei fare un video Ve lo dico perché tanto l'avrò già registrato Quando voi vedrete questo video Nel quale fondamentalmente Registrerò le reazioni dei miei migliori amici Come Corno, Pietro, Jack Insomma Bura Tutti quelli che voi vedete nei miei video Alla moto nuova Perché appunto nessuno se lo aspetta Tutti si aspettano che arrivi settimana prossima E niente raga Sono curioso di vedere le loro relazioni Bella lì è andata nella fanghiglia Già tutta bella sporca Buona ragazzi Io sono quasi arrivato a casa mia Quindi direi che questo vlog può concludersi qui Sono mega felice raga veramente Sarà un nuovo inizio col botto Spero di avervi fatto una sorpresa E spero che questo video appunto vi sia piaciuto Vi ricordo se non l'avete ancora fatto E male perché ve l'ho già detto all'inizio video Di seguirmi su Instagram Il mio nome è Dianno Che figata raga Noi ci rivediamo in un prossimo video Ovviamente riguardante il TM E vedrete tante belle cose Lasciate un bel mi piace Un commentino qui sotto E adios Noi ci rivediamo in un prossimo video Noi ci rivediamo in un prossimo video Noi ci rivediamo in un prossimo video